...una sorta di ultima corrente della democrazia... ...da quando dì il libro umanico non era sbagliato? ...da quando dì il libro umanico ha sbagliato? ...penso, ai dipatti di fatti, semplicemente, su Prenzo XVI, l'affinatissima persona l'ha considerato uno che invece sembrava portare indietro... ...allora, specialmente, c'è anche il pensiero, ma non... ...se dimettevi anche la musica di Audi sotto, come si è fatta con i frati di... ...quando Francesco non veniva fuori quella comunicazione... ...ma non si sono innamorati, io ho conto con le persone che non hanno l'attuazione radiazionale... ...che non credono nemmeno, magari nemmeno, nell'acqua di epida... ...ma che si sentono in qualche modo spiegati... ...allora, intanto, intanto, perché non l'avamo presentato qui... ...diciamo già a parlare con la discussione... ...ma certo è un posto, buongiorno... ...lo ministro e la famiglia che si ha...